Buongiorno Friuli e buona domenica, domenica 14 gennaio. Per iniziare questa giornata assieme con la nostra rassegna stampa abbiamo scelto un'immagine che oggi ci arriva dalla costa della nostra regione, ci arriva da Grado. Eccola l'immagine dell'isola del sole dove il giorno sta iniziando in questo momento a Grado. Ci sono 6 gradi e 4 decimi, 7 gradi e 2 a Trieste. A Gorizia 4 gradi e 9, 5 gradi e 8 decimi a Udine. Fa più freddo a Pordenone, 2 gradi e un decimo. Si va sotto zero sul Lussari, meno 6,2, meno 5 anche sullo Zoncolan, 2 gradi e 7 decimi a Tolmezzo. La giornata di oggi proseguirà l'insegna di un cielo variabile su pianura e costa, con bora moderata anche sostenuta sulla costa, specie nelle ore notturne. Sulla zona montana in prevalenza nuvoloso, possibile qualche debole nevicata fino a Fondovalle, più probabile sul Tarvisiano dove il cielo rimarrà coperto. Vediamo minime di meno 1,2 gradi in pianura e massime che andranno dai 6 ai 9 gradi. Uno sguardo veloce anche alla situazione viabilità sulle principali autostrade della nostra regione. Andiamo sul sito infotraffico di Autovie Venete che ci riporta in prima pagina ancora la chiusura che si è avuta durante la notte e che proseguirà fino alle 8 di questa mattina sul tratto Latisana-Bivio A4-23 in entrambe le direzioni. A parte questo avviso, al momento vediamo anche qual è la situazione grazie al sito infotraffico di Autovie Venete. Vediamo appunto i cantieri, la chiusura del tratto autostradale, ma fortunatamente al momento non si segnalano altre criticità. E allora cominciamo la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo a vedere i titoli di apertura, a cominciare dal Corriere della Sera. Vediamo che in apertura c'è la politica. Grasso e Boldrini duello sull'intesa con i 5 Stelle. E Renzi attacca Di Maio, sono incompetenti. Ecco il titolo di apertura del Corriere. Frizioni tra Pietro Grasso e Laura Boldrini su un'eventuale intesa tra Liberi e Uguali e 5 Stelle. Non decide lei, precisa il Presidente del Senato. Intanto il segretario Matteo Renzi torna ad attaccare Luigi Di Maio e dice appunto l'incompetenza è il nostro avversario politico. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Con la fotonotizia andiamo a Napoli aggredito a 15 anni senza motivo. È grave la violenza, la follia e il coraggio delle mamme, scrive il Corriere. C'è un senso di vuoto, di futilità della ferocia, dentro cui rimbombano passi e gesti dei ragazzini napoletani finiti nelle cronache nere di queste settimane. E poi l'inchiesta sul mondo del lavoro, il paradosso del lavoro che non c'è, mancano i profili più richiesti. Sembra incredibile che nel paese dei NEET, cioè dei ragazzi che non studiano né lavorano, e con un tasso di disoccupazione giovanile al 32,7%, gli imprenditori non trovino giovani da assumere. Succede un po' ovunque in Italia, con situazioni paradossali. Nella Sardegna del turismo non si trovano abbastanza diplomati negli istituti alberghieri. Ci sono mestieri che i giovani non vogliono più fare. A parziale attenuante le paghe di primo impiego troppo basse. Dal Corriere andiamo adesso sulla prima pagina della stampa. Ecco il titolo di apertura di oggi. I Vescovi strigliano i partiti. Basta promettere miracoli. Intervista con il presidente della CEI Bassetti, che dice Italia da rammendare, serve responsabilità. E poi vediamo anche sulla stampa per quanto riguarda la politica, il duello Renzi di Maio su Torino, la città a nuovo terreno di scontro. Andiamo a vedere anche una fotonotizia che troviamo a centro pagina e che ci arriva in questo caso dal Sudafrica. La fuga dei cinesi dal Sudafrica. Ci discriminano. Arrivati dopo l'apartheid per sviluppare il commercio, adesso vengono strozzati dai debiti. Questa è la storia raccontata oggi dalla stampa. Cambiamo quotidiano e andiamo a vedere anche la prima pagina di Avvenire. Abbiamo visto sulla stampa l'intervista al presidente della CEI. Allora andiamo sul quotidiano proprio della conferenza episcopale italiana e vediamo assieme il titolo di apertura. Si parla ancora dell'accoglienza dei migranti. Oggi la giornata indetta dalla Chiesa Campagna CEI, liberi di partire, liberi di restare. Accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Questo è il titolo di apertura di Avvenire. Chiudiamo anche questo quotidiano e proseguiamo la nostra carrellata sui titoli di apertura. Andiamo sul manifesto che apre con questa foto e con questo titolo. Stracotto, l'avversario del PD non è il centrodestra ma il Movimento 5 Stelle. Renzi torna all'ingotto e all'Assemblea nazionale dei sindaci DEM, apre la campagna elettorale di un partito in caduta libera nei sondaggi, attacca Raggi e Appendino e sulle sue ambizioni per Palazzo Chigi frena. Basta che sia uno del PD. E questo era il manifesto. Vediamo anche Libero. A 40 giorni dalle elezioni tutti addosso a Silvio perché temono vinca. Berlusconi continua a crescere nei sondaggi e i giornali tornano a evocare i PM per abbatterlo. Stavolta lo accusano di non aver venduto il Milan. Marina, la figlia dice la solita storia, non se ne può più. Andiamo anche sul giornale e vediamo costruito un falso per affossare Berlusconi. Bufala ha orologeria. La procura di Milano smentisce categoricamente le fake news pubblicata dalla stampa di De Benedetti sulla vendita del Milan. Non c'è, dice la procura di Milano, alcun fascicolo aperto su questo caso. Ancora andiamo anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Torniamo, continuiamo, anzi le aperture dedicate alla politica. Grillo non lascio i 5 Stelle. Scrive al Fatto per smentire le voci di divorzio da Di Maio e Casaleggio. Manca pochissimo alle urne, sarei come un gezzista che si dà al liscio, scrive Grillo. Ancora, vediamo anche la prima pagina della verità. Allarme medicinali, si svuotano le farmacie. Già sparite circa 1500 specialità. Da noi i prezzi sono troppo bassi e ai produttori conviene di più venderle negli altri paesi. Risultato, molti pazienti non possono curare le loro patologie senza importare i rimedi dall'estero. Alla fine a pagare è lo Stato. Scappano dall'Italia persino le pastiglie. Ironizza un po' nel titolo principale la verità. Che adesso chiudiamo per andare sul Sole 24 Ore. Vediamo anche l'apertura di un quotidiano economico finanziario. Ecco il titolo di apertura di oggi. Pagamenti digitali si apre il mercato. Nuove regole su PSD2 e CAD. La carica dei big high tech. L'Unione Europea per i consumatori. 550 milioni di risparmi. La pubblica amministrazione dice Dialogo online più facile ma a uffici in ritardo. Rivoluzione dunque per i pagamenti online da device mobile e nonne. e con banco matecarte di credito nonché per le transazioni degli utenti e tra aziende. La direttiva PSD2 ridisegna da ieri il mercato dei pagamenti con l'obiettivo di innalzare il grado di trasparenza e anche di sicurezza. E poi vediamo sempre nel taglio alto la notizia dell'aumento dei stipendi dei dipendenti pubblici. Polizia, scuola ed esercito nei contratti aumenti da 59 a 103 euro. Chiudiamo anche la prima pagina del sole 24 ore. Adesso spostiamo la nostra attenzione sui quotidiani locali. Andiamo a vedere Gazzettino piccolo e Messaggero Veneto. Vediamo il Gazzettino, la prima pagina del Gazzettino che ci porta a parlare ancora di temi nazionali ma non solo. Lo vediamo in apertura all'economia, ripresa 2018, record Veneto. L'Italia corre ma meno di tutti in Europa ma il nord-est è in testa alle regioni per quanto riguarda la crescita del PIL. E poi nel taglio alto una notizia che riprende un video shock diffuso dalla RAI girato a Padova. soldi al medico per saltare la lista. Facciamo 2.000 euro, dice il medico in questo video trasmesso dalla RAI. E ovviamente sono scoppiate tante polemiche a questo proposito. La difesa dice ero in clinica privata e non in ospedale. Vediamo anche questa notizia a centro pagina. Ci parla delle proteste a Vicenza per quanto riguarda il Vicenza Calcio. Niente derby, decidono i tifosi. Bloccato il Pullman con la squadra giovanile. Poi magari ritorneremo su questa notizia nel corso della nostra rassegna stampa sportiva. Ma adesso andiamo sul fascicolo dedicato al Friuli. Così vediamo le notizie principali che ci arrivano dalla nostra regione. Eccolo qua. Cade mentre gioca. Tredicenne grave. È precipitato in una bocca di lupo finendo in uno scantinato. È stato subito soccorso dall'ambulanza e dall'elicottero. Ecco qua il titolo. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine. Il minorenne è rimasto ferito in modo serio. Preoccupa il trauma alla testa. Cade in una bocca di lupo e fa un volo di alcuni metri all'interno di uno scantinato o di uno stabile mentre gioca con un amico. Un ragazzino di 13 anni che ieri stava giocando con un amico nei pressi delle scuole medie del paese in quel momento chiuse è rimasto così gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione per cause in corso di accentamento il ragazzino è caduto nel lucernaio che si affaccia sul piano interrato dello stabile. Rimasto sempre cosciente. È stato subito soccorso dagli operatori sanitari giunti sul posto con elicottero e ambulanza. Le sue condizioni sono serie. Sul posto anche i carabinieri. E poi vediamo a centropagina la politica verso le elezioni comunali. Nel capoluogo a Udine ieri c'è stato l'incontro con la cittadinanza del progetto Innovare e martedì ci sarà il vertice decisivo del centro-sinistra. Martedì vertice decisivo dopo gli appuntamenti pre-elettorali di ieri di Innovare e PD si attende l'incontro del centro-sinistra in programma martedì. Per ora da Innovare nessun sì e nessun no a un appoggio incondizionato a Martinez. Per la cronaca gioielli rubati finisce in manette un giovane originario di Udine è stato fermato dai carabinieri di Palmanova e accusato di un furto a porpetto e di un tentato colpo a Campo Formido lo scorso agosto. Sanità malati di SLA cambia l'assistenza. Individuati i soggetti che devono intervenire e le modalità operative per il trattamento della sclerosi laterale amniotrofica che conta in Friuli Venezia Giulia oltre 2000 malati. Sono questi i contenuti del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per le persone colpite da questa malattia che l'Aggiunta regionale ha appena approvato. E poi sempre per la cronaca una storia di violenza purtroppo botte per tre anni dal fidanzato geloso e violento la storia di Francesca che ha saputo ribellarsi e tornare libera. I vigili per il concorsone arriva all'ora della verità. Il direttore dell'Uti dice attendo ok del terzo commissario, il vice Bertolini, se non avremo un sì sospenderemo. Si parla ancora del concorso per l'assunzione di alcuni agenti di polizia locale a Udine, concorso che come sapete è stato sospeso. E poi lo sport udinese Maxi Lopez ha fame di gol. Poi ci torneremo su questa notizia più in là nel nostro Buongiorno Friuli. Per la musica la sedicenne Doha El Gaidi vince Sing in Time. Il concorso organizzato da Città Fiera, The Group Factory e Udinese TV dedicato ai giovani talenti canori. Andiamo sul messaggero Veneto adesso. C'è la politica, o meglio i costi della politica in primo piano, i costi delle candidature. Un posto a Roma costa 40.000 euro. È la spesa per la campagna elettorale di ogni candidato. Questo è il titolo di apertura e poi nelle primissime pagine del giornale ci sono tutti i particolari relativi appunto ai costi di una candidatura. Per quanto riguarda la politica c'è anche sul messaggero Veneto di oggi una lunga intervista al candidato del PD Sergio Bolzonello. Il lavoro in primo piano nel patto di Bolzonello. Ecco l'intervista, anzi il richiamo in prima pagina della lunga intervista che troviamo poi nelle pagine interne. Eccola qua, il candidato del PD inaugura la lunga campagna elettorale per le regionali. Giunta, imprese e atenei uniti per creare nuova occupazione qualificata. Queste in sintesi le parole, il messaggio di Bolzonello che dice la mia legislatura sarà priva di personalismi eccessivi perché governeremo come una vera squadra. In caso di sconfitta farò opposizione in consiglio costruendo il futuro. Torniamo in prima pagina, dicevamo prima del... parlavamo prima con la prima pagina del gazzettino dei vigili, del concorso dei vigili. Il messaggero Veneto invece scrive in prima pagina meno vigili in città, sempre più sosta selvaggia. L'organico è in calo, pochi agenti in strada. E vediamo la notizia approfondita nelle primissime pagine del fascicolo di Udine del messaggero Veneto. Meno vigili urbani, in centro aumenta la sosta selvaggia. L'organico della polizia locale è sceso da 92 a 70 unità ma per i servizi esterni sono a disposizione solo 38 agenti. Questa è la situazione. E vediamo appunto i numeri degli agenti in servizio Audi nel 92 nel 2004. Adesso siamo a quota 70. E poi vediamo anche tante altre foto di auto in divieto di sosta. Rimanendo a Udine e tornando a parlare di politica come abbiamo letto prima anche sul Gazzettino ieri c'è stato il confronto con la città della lista Innovare alza il tiro, noi prima forza della coalizione. Ieri il confronto con i cittadini sui temi della città prima degli incontri nei quartieri. Pirone, Nonino e Liguori dicono al tavolo del centro-sinistra ascolteremo senza pregiudizi. La lista di Onsele lascia aperta la porta delle primarie e non scioglie le riserve su Martinez. Possiamo continuare a governare costruendo un progetto civico. Martinez che ieri ha tenuto un incontro a Udine in Castello per raccontare un po' il suo progetto politico-amministrativo. La Udine ambiziosa di Martinez mette da parte le mire espansionistiche per diventare un punto di riferimento. La visione elaborata in passato dal sindaco Candolini è superata. Ha detto Martinez, dobbiamo costruire reti con il territorio. Non più capitale del Friuli ma rappresentazione dinamica del Friuli. Una terra ricca di diversità che ha le carte in regola per vincere le sfide del futuro. La Udine di Vincenzo Martinez mette da parte le ambizioni espansionistiche che si rifanno alla visione di Grande Udine elaborata in passato dal sindaco Candolini ma non rinuncia a essere una città ambiziosa e vuole essere rappresentante del territorio friulano nel contesto delle nuove sfide che attendono tutta l'area del Friuli centrale nel rapporto con il futuro porto di Trieste e lungo la via della Seta. Queste le parole di Martinez. Torniamo in prima pagina adesso. Andiamo di spalla e andiamo a leggere un po' di notizie che ci arrivano anche dal territorio. A Malborghetto, Bambido cade nel pozzetto profondo 4 metri. È grave, non è comunque in pericolo di vita. E poi un'operazione della polizia, prostituzione, ancora controlli sul torre. E andiamo a vedere l'articolo nelle pagine interne. Eccolo qua, prostituzione, nuovi controlli sul torre, verifiche anche nella zona di Borgo Stazione identificate le cine di uomini e donne sequestrata anche dell'Ascish. Ecco il titolo dell'articolo, richiamato anche in prima pagina. Torniamo proprio sulla prima, continuiamo la nostra carrellata sulle notizie che troviamo di spalla a Cividale. Manifesti sulle finestre della scuola come tendine per ripararsi dal sole. Un caso che sta facendo discutere a Cividale, dove tra l'altro oggi è attesa la sfilata degli alpini. Ecco qua, la prima notizia. Manifesti al posto delle tendine parasole. Cividale, soluzione di fortuna alle scuole medie e piccoli, dove mancano le tapparelle. Il caso a Proda, in consiglio comunale. E poi dicevamo della sfilata degli alpini oggi a Cividale. Alpini in coro, sì, alla Dunata 2021 a Udine. La candidatura del capoluogo friulano trova tutti d'accordo. Niente parata per gli unici due reduci del battaglione. E intanto ieri c'era già stata un anticipo di questa manifestazione, di questo raduno a Chiusaforte. Mezzo migliaio di penne nere in marcia fra gli applausi. Almeno 500 penne nere che avevano effettuato il servizio militare nel battaglione alpini Cividale. Hanno partecipato alla sfilata per le vie di Chiusaforte ieri fra la folla che li ha accolti con gli applausi. E poi andiamo nelle pagine dedicate agli spettacoli dove si parla del musical Mamma Mia in programma, in scena in questi giorni al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Questo pomeriggio l'ultima rappresentazione. Ecco il titolo in prima pagina. Mamma Mia, il musical che spopola in Friuli. Ecco ancora il titolo. E poi invece nelle pagine della cultura l'articolo di Giampaolo Carbonetto che ci parla del 68, quell'odore che divenne guerra. Andiamo sul Messaggero Veneto di Pordenone adesso e vediamo quali sono i titoli in primo piano nel Pordenonese. Vediamo la fotonotizia a centro pagina. Le travi tra gli affreschi contestato l'allestimento metallico mobile all'ex convento. E allora vediamo la notizia sulla prima del fascicolo di Pordenone del Messaggero. Travi metalliche tra gli affreschi, tra gli antichi affreschi, l'allestimento mobile all'ex convento che divide la cultura. Il nuovo convento di San Francesco, il convento live, fa subito parlare di sé. E non solo per gli spettacoli. L'allestimento ultramoderno, travi metalliche che possono essere smontate, hanno generato un acceso dibattito sui social. ma non solo. Funzionale al nuovo progetto culturale voluto e seguito direttamente dal sindaco Ciriani, l'allestimento è stato accolto con freddezza e anche con spirito critico da una parte del mondo della cultura. Una cosa è sicura, non è passato inosservato e almeno su questo l'obiettivo di creare un luogo d'avanguardia è riuscito. E vediamo appunto alcune immagini di questo allestimento appunto con le travi metalliche che sostengono i fari per l'illuminazione. Eccolo qua. Chiudiamo adesso, anzi leggiamo ancora un'altra notizia sul messaggero veneto di Pordenone, una notizia che ci arriva dal mondo della sanità perché è arrivata a un'audience nazionale la notizia del blocco delle operazioni al Santa Maria degli Angeli di Pordenone per far fronte alle emergenze legate all'influenza. Niente interventi per gestire meglio il BUB di recovery. Toscani dice abbiamo cercato di prevenire problemi, è stato creato un satellite di medicina in chirurgia. Oggi il messaggero propone un viaggio nei reparti del Santa Maria degli Angeli con medici e infermieri che stanno affrontando l'ondata influenzale. Il provvedimento ha avuto una risonanza nazionale. Giorgio Simonni, il direttore generale dell'azienda sanitaria 5, dice un atto dovuto nei confronti dei malati. L'obiettivo comunque è quello di ripartire. Già martedì a San Vito sono tre le sale operatorie. e nell'articolo troviamo l'analisi appunto del primario infantino a Spilimbergo slitta una decina di operazioni. Andiamo a vedere adesso l'apertura del piccolo, il piccolo di Trieste. Ecco il titolo dell'edizione appunto di Trieste, il titolo di apertura. D'aspo per i mendicanti a Trieste. Il comune allontana chi chiede l'elemosina. Via pure i posteggiatori abusivi. Ecco il titolo di apertura e la notizia che apre la pagina di Trieste cronaca del piccolo di oggi. Eccola qua. Via libera dalla giunta, al decreto di allontanamento, sottotiro anche posteggiatori abusivi e bivacchi a Barcola. Tra le novità, le sanzioni per chi sputa per strada e per gli over 14 che usano le giostre dei bambini. Spazio anche alla politica, anche sul piccolo. Ecco le primissime pagine. Verso il voto i vertici nazionali PD aprono alla corsa di Illy per il Senato. Candidato valido e di peso. Zanda sponsorizza l'imprenditore. È un amico, ha grande personalità politica. Sul fronte opposto, appello di Meloni per la scelta delle leader. Il nostro faro è l'unità. Si fa quindi il punto in casa centrosinistra e centrodestra. Anche sul piccolo vediamo un'intervista a Bolzonello. Non ho paura di imboscate. Riccardo è garanzia di lealtà. Il vicepresidente in gara per la guida del palazzo fissa le priorità del programma. Più lavoro qualificato e scuola. Fedriga o Riccardi, come avversario per me non cambia nulla. Dice Bolzonello. E poi la questione seggio agli sloveni. Semolic si sfila. Papabili scesi a tre. C'è chi punta a ottenere il terzo posto nel listino alla Camera. Chiudiamo il piccolo di Trieste adesso. Prima di fermarci per la pubblicità andiamo sull'edizione di Gorizia e Monfalcone del quotidiano sconfinamento per bloccare la fuga. Agenti sloveni a Rupa dietro a un'auto. Volanti speronate, gradese, nei guai. E con questa notizia di cronaca che apre appunto il piccolo di oggi. Poi troviamo tutto l'articolo nelle pagine interne. Ecco qua. A centro pagina una foto notizia che ci riferisce della chiusura della Eton di Monfalcone. Chiusura Eton, proteste e appello al governo. Oltre 150 senza lavoro. Monfalcone sotto shock per la decisione dell'azienda di chiudere il locale stabilimento Eton. Ecco qua. Ancora una foto della protesta appunto della manifestazione. Governo e imprese scendono in campo per cercare di difendere lo stabilimento. Ecco qua. E con questa notizia noi chiudiamo la pagina questa pagina di Buongiorno Friuli dedicata ai quotidiani locali e nazionali. Come sempre adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi concentreremo la nostra attenzione sulle notizie sportive. Ci rivediamo tra poco.